Oh la madonna! Bro, è enorme! Bro, ma dove dobbiamo arrivare? Bro! Ma... Ma hai visto dove dobbiamo andare? Eh... Ma tipo dall'altra parte... Cioè... Ma... Si è poco più... Io sono staccato poco più avanti Ehm... Cioè... Ti staccano e poi ti uccide una cosa Dai, io ho fatto quella cosa Mi sono messo in patto un po' Ok... Comunque se spari in testa al bambino I colpi passano attraverso No, perché? Ho appena fatto Non lo sapete Un momento, da che stazione venite? Che idea hai per la tua campagna? Che televisioni decida Come? Che idea hai per la tua campagna Che vi gioco qualcosa in mente? Eeeh... Non spoiler Cioè nel senso... Devo prima pensarci una... Ve lo dico poi quando la... La costruisco meglio Da un'occhiata magari... Da un'occhiata magari a... 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 A compendio Come? E vedo un attimo... Da un'occhiata magari per i compendi Se c'è qualcosa giusto del... Del 1600 Per dare un'occhiata magari ai personaggi Sì 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 ci sta Perché ci sono un boss di... Di roba che mi piace Tipo magari un investigatore Potrebbe essere figo Sì 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 sì... Fighissimo In... In un... In un caricatore di taglie magari... Poi a seconda di quello che fate... Ecco se io so prima chi siete... Allora posso plasmare anche un minimo l'inizio della campagna In modo tale da... Poi... Fare... Imboccare la strada che... Che ho in mente Vabbè poi... Appena ci dici... Cioè prima... Vediamo un attimo come stai ci vuoi Eh infatti... Comunque... Le ho ammazzate le carte... Sì l'ho ammazzate adesso lui ha acceso un faro... Eeeh... Sì... Eeeh... Io sono il colonnello mi... Si aprirà la porta Aspetta per far vedere un po' cosa dicono... E Artyom è uno dei miei subordinati... Siamo arrivati da Mosca in treno... Questo lì boh... Mi sembra un coglione... Cioè mi sembra proprio un... Tipo... Truffaldino... Si... Molto truffaldino boh... Questo qua è... Ci porta nella trappa della fine... Cos'è più? The fuck? Non so... A me ha appena aperto il... Il coso... Il... Quello... Il cosoò... Tu prendi il pennello... Sauver... Ok ho aperto una porta. Ia Bro... Si 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 sono... Poco d- writk... C'è tipo c'è... Ci son... Delle piante adesso... Se... Non c'era questo campo da lavoro, c'era diventato un tavolo da lavoro. No, non ce lo fa usato. Perché il bambino ci si chiede sopra. Quindi mi sa che per ora finché parli non so. Io sento il tuo audio, il tuo bambino che sta parlando. Ora? No, ok. Comunque se guarda in faccia Miller è proprio Tachanka. Lui è vestito proprio come Tachanka. E' uguale. Comunque la balestra, adesso la sto provando, è veramente forte. Io ho il caricatore che spara più veloce e che tiene 9 frecce alla volta. Si, si è fortissima la balestra. Cioè tipo, mi vuole anche mettermi colpi esplosivi, secondo me... Certo. Soda, abbiamo bisogno della tua radio. Contattiamo l'Aurora, Artyom. Riuscirò ad avere quella mano. Cioè, Greven. Aurora, mi sentite? Qui è Miller. Centreferenze, che palle. Non mi piace questa zona qui. Cioè, mi sento... Certo io dobbiamo trovare il coso di Anna, ma... Io vado a cercare la mappa. Artyom si occupa... Ma vado a cercare la mappa per far che? Che dobbiamo cercare le fighe di medicine. Come sta Anna? Sta dormendo. Cercate di arrivare in fretta. Katia dice che Anna avrà presto un altro tanque. Troppo debole per me. Ripetete Aurora. Ok. Mi dà il... Gli antiragiazioni. Vi ricevete Aurora. Passo. Eh, io sto comunicando con l'Aurora, ma non ce l'ho più. A proposito... Se vuoi puoi prendere il mio cannone a rotaia, dice Miller. Se suo padre è davvero... Aspetta un attimino. Ok, c'è il campo da lavoro adesso. Cioè, posso fare tutto da lavoro. Oh... Voglio il cannone a rotaia? Dov'è? Dov'è? Fantastico. Grazie, Artem. Nel frattempo preparati. C'è perfino un tavolo da lavoro qui. A proposito. Se vuoi puoi prendere il mio cannone a rotaia. L'hai trovato? Cosa? Il cannone a rotaia è... Su un tavolino. Ah, sì, eccolo. Ah, è tipo... Sparapallini. Ah, sostituisce la palestra. Eh sì, perché è tipo un... Adesso... Pronto a sistemarlo il secondo? Eh, adesso faccio. È tipo... Il... Cosa? Il tica? Il tica. Ah, è semplicemente un accessorio per il tica, eh? Ah, è vero. Boh, guarda che cazzo... I danni, quanto... Con il cannone a rotaia. Cosa succede? Se metti quello e se lo togli. Boh, ma cosa vuol dire? Sei pronto? Sei pronto? Sei pronto? Cos'è? Buona fortuna. Ah, è l'antiradiazione. Ricordati perché lo stiamo facendo. La vita di mia piglia. Tua moglie. E nelle tue mani. Ecco perché ti diceva... Però ti nini un fucile perché tanto nini. Lui figa, deve andare... Mmm... Affanculo. Cioè lui... Cosa sta succedendo? Ah, ok. Lui... Lui deve andare tipo... Veloce di mostri? Eh, sì, ma muoiono. Lui deve andare... Alla... Alla stazione di comunicazione. Mica cazzo, eh? No, bro, mi... Vuoli di perterrazione anche delle molotov. Raccoglibili? Sì. Ah, bro, dove? Eh... Oh, cazzo! Non ne avevo visti questi. Mi hanno finito? Ah, ma mi hai fatto malissimo. Dai! No, 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 no. Ma porca puttana. Sono caduto. Ma cade tutto... No. Ma... Eh, sì. Wow. Io mi sto facendo tutti col fucile a pompa. Ma ha una gittata che non esiste, sto ticar, però, eh. Non ha gittata. È tipo, stavo sparando da un po' di distante, tipo... Boh. Sette metri. Non colpiva. E l'hai caricato? Sì, sì. Magari... Si, sì. Anche tu sei caduto, tipo, vicino a dei funghi? Su alcuni scaffali? Sì. Eh, no, sono al piano di sopra, non sono caduto lì, però comunque li vedo. Cioè, sono... Sono lì. Ok. E lì sotto è il cioccoletto, cazzo. E ora sono caduto anche lì, mi sa. Porca Valera. Ok. Bro, non si vede un cazzo qui. Ah, apre qua. No, siamo lontani... Cioè... Siamo lontanissimi. Dall'obiettivo? Sì, però, ma siamo neanche... Neanche a un quarto. Madonna. Eh, ma succederà sicuro qualcosa. Ups. È cambiato l'obiettivo, mi sa. Eh, hai fatto, tipo, quel pinguino, no? No. Che paura, bro. Ho sentito un... 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 Qualcosa di strano. Era un bambino fuori dalla finestra, nel cortile. Che paura. In che senso? Eh, dai, la casa mia. Ho sentito un... Guarda di un bambino. Eh? E non capito dalla propria inizia, però non era il gioco. Bro, ma... Ah, ma sono... Avevo il visore, bro. Non vedevo un cazzo. C'era la barca e... Sì, c'era la barca. Vabbè. E... Vabbè, ho preso la barca. Anch'io. Guarda, ho preso un po' il visore, bro. Ti fotte tutta la batteria. Sì, il visore ti... Ti devasta la batteria, è vero. Che cazzo sono sti rumori? Oh! Li senti? Ma... Ho sparato... Rumori? Eh, c'erano delle urle. Io mi sono fermato alla porta. Dove puoi scendere? Oh, ma che cazzo... Sì. C'è tipo un pezzo in cui puoi scendere qui. Bro, ma che paura! Ma cos'è che mi fa male? Oddio! Che cos'è? Ma sono dei tentacoloidi! Ma... Voi li hai visti? Sì. Sì. Devo attaccarli. Sono delle schifezze appiccicate al muro. Bene, si può tornare indietro. Bella avventura. Bro, ma è un verme gigantesco! Che schifo! Un altro... No, bro! No, ho finito i colpi! No, 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 no! Ok. Bro, ma che cazzo fate? Io ho questi finiti colpi, bro. Eh, io infatti ne ho craftati un po' perché ne avevo quattro. Guardate che hai già americata l'arma, cioè dovrei pulire l'arma. Ah, esatto, esatto. Anche la mia. Io avrei preso la barca, eh. Eh, anch'io. Bro, è veramente schifo... Una schifezza sta roba. C'è il vermone! No, bro, son due, ma son due, ma son due! L'ho ucciso! Ah, boh, ma li shot ti fra. Col pompa li one shot. Ma li hai fermato? Eh sì, sono andato un po' più avanti, ci sono sui due vermoni, ma li one shot ti fra. Che schifo! È come entrare in un naso qua dentro, bro. Sì, è come... letteralmente! No! Che schifo, merda, che schifo! Bro, ma quanti tempi è andato, bro? Eh, un po'. Prefì sto passando in questo naso e ci sono tipo un po' di brucos... ...attattati alle pareti, ma mi schifano niente. Eh, io sono già andato un po' più avanti. Mi stanno sputando e... ...i cazzo, cioè li sto superando tanto... Muori, ma muori! Ok. Ora devo mettere la macchina di gas. Aia! Aia! È un po' più avanti, bro. Io sto continuando a pedalare, non arriva niente. Mi sono salvato il culo, bro. Ok. Bro, devi stare anche su qui addosso. Sì. Preciso. Sono proprio in acqua. Preciso. Sua maschera ce l'ho, le stanno subito. Come si togono? Io... Ah, puoi pulire la maschera con... Però non l'ho fatto io. Eh, aspetta... Non mi puzza di boss, poi, c'è? Ma a me puzza tanto di merda, bro. Ma quanti vermoidi? Ma basta! Mi ha dato lascivamente putrefaccione. Sì, bro. Aspetta, così dal tuo personaggio me ne sarebbe dato di coglione. Boh, sta succedendo qualcosa che non ho capito, perdonami. Bro, c'è un problema. Perché sto scivolando verso... Perché io... C'è un problema, bro. Eh. Sono entrato in una galle... In una... In una... Come in una caravale. In un vagone, bro. Sì? Tipo, tutto schifoso. Ed è caduto, tipo. E se è sceso un po' adesso non posso riuscire. Io sono sceso, bro. Io sono uscito dal vagone. Merda! Inventava tutto il cazzo! Basta! Madonna! Oh! Ah, c'è una leva fuori, eh. Sul balcone. Cosa fa? Ah, tira giù un ponte. Sì. Madonna! No, non ha tirato giù. Erano scale. Ha dato un po' troppo giù per essere un ponte. Ok. Sai che non mi sta facendo impazzire questo mega fucile giga forte? Boh, è fortissimo. Fortissimo, però è pochissimo stabile. Cioè, tipo... Ah, mi piace. Dici che è meglio mettere il visore potente adesso. No, no, io... Madonna, anche la maschera ce l'ho sfondata! Eh, sì, quando tipo lo messo nella barca e me l'hanno distrutta. Si può togliere adesso? Sì, si può togliere. No, io non lo so se vorrei scorrere la mia faccia a questo posto. Oh, no, no, no... Oh, che poteva sia. Facciamo un altro video di qui, eh... Facciamo un po' di pallettone... Ok. Sono le tani rapide. trac io ho davvero tipo tantissimo filtro io... no ah si anch'io anch'io è vero 28 minuti comunque questi vermi attaccati con le pareti? cioè io li sto ammazzando con il fucile d'assalto che è un colpo, finanziato lì sotto ed è più prefiguto del fucile di gare ok sono di nuovo sopra io ho una bar... che cazzo però io si raccomando la leva che ha fatto scendere una barca si è proprio una granata anche oh mi hanno rotto i coglioni te lo giuro io prendo la barca muovi si ci sono talmente tanti vermoni che la barca infatti stavo aspettando un attimo perché sono infiniti questi vermoni bro colticano i cappotti cioè tipo sei colpi e sono morti ah sei colpi vabbè figa sono tanti comunque allora fai tu 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 e sono morti hai usato tanto il pompa e il pompa tipo lo devo controllare gli altri merdini ok io sto iniziando a pedalare ma che cazzo ma sono caduto dall'acqua di nuovo forse io sono in una galleria con del ghiaccio con delle stalattiti tipo di ghiaccio non so quali quali che vengono dal basso sono stalattiti o stalattiti non lo so mai ok 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 qui è abbastanza palese quello che sta succedendo sappiamo tutti ok qui è abbastanza palese ok palese palese ok chiaro palese eccoli qua quanto sei andato più avanti tu? dritto proprio sono andato in una galleria dritto ok bro cioè tipo io ho appena riparato la cosa sono andato sulla barca 10 metri mi hanno attaccato un sacco di vermoni però mi non vorrei spaccato la barca sì sì esatto aspetta un po' che c'è un momento cruciale mi sa ok sono anch'io in questa galleria no ah no ok ah no pensavo fosse diversa la situa no ok è tutto regolare perchè sto morendo? perchè sto morendo? no 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 non è proprio come penso io altro che cazzo è normale bro se ti sta è normale no bro secondo me non sono le radiazioni però che ci stanno facendo avere ste cose eh io non ho ancora visto alle cinazioni io immagino che ce ne siano beh sì sì i miei occhi iniziano a flippare tipo sì le radiazioni sono altissime qui allucinanti ma non credo sia le radiazioni che ci stanno facendo a fare tutto ciò che cos'è? che cos'è? il ghiace sta volando? si è eh appunto 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 E poi, aspetta, 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 ferma tutto. No, non sono le radiazioni queste qui. No, non sono le radiazioni. Cazzo, aspetta, io sono transvenuto. Ah no? Aleso. Io appena vi incontro con Anna Io sto correndo su perché Se no mi crepo per radiazioni Aspetta Palese C'è una che decidi seguirla Grazie